Acqua ed Esa, i nodi da sciogliere che a Gualdo Tadino la lista Gualdo Civica rappresentata in consiglio da Paola Gramaccia pone sul tavolo della Giunta Comunale come questioni urgenti da affrontare, sostenuta dal segretario regionale dell'Udc, Sandra Monacelli. Sull'acqua si dibatte per il rinnovo della concessione Rocchetta per ulteriori 25 anni a partire dal 2022, un tema importante secondo Sandra Monacelli che però va affrontato senza chiusure mentali nei confronti di un'azienda che vuole investire sul territorio. Soprattutto alla luce di dati che, spiega il segretario Udc, parlano per Gualdo di uno spreco di acqua rimasto sinora in secondo piano. Dai dati della conferenza dei servizi, quindi dati strettamente ufficiali, viene fuori che su 130 litri al secondo che vengono emonti dalle sorgenti del comune di Gualdo Tadino, in realtà il 75% di questi emongimenti vengono dispersi in una rete idrica fatiscente. La domanda numero uno è intanto il comune di Gualdo Tadino che cosa ha fatto nei confronti del lati e dunque dell'ente gestore per evitare che ci siano perdite di questo impatto. Perché il 75% su 130 litri al secondo vuole dire che in questo territorio insistono in maniera clandestina, quindi non dichiarata, ben sei rocchette e mezzo. Allora qui tutta la storia che da anni stiamo facendo, rocchetta sì, rocchetta no, rocchetta che si porta via una parte delle ricchezze dei Gualdesi e a torto o a ragione c'è chi dice la sua in maniera propria e impropria. Io vorrei porre l'attenzione su quello che passa sotto silenzio, non raccontato. Quanto allesa la società capitale pubblico che gestisce a Gualdo Tadino la raccolta dei rifiuti, il consigliere comunale Paola Gramaccia ha richiesto l'accesso agli atti per capire come mai questa azienda sia rimasta fuori dal bando pubblicato dall'AT1 con il quale si individuerà il gestore unico da qui ai prossimi 15 anni dei rifiuti di tutta l'Alta Umbria per un importo che si aggira sui 293 milioni di euro. L'esclusione di ESA che non potrà partecipare al bando mette a rischio, secondo Gramaccia, il futuro dell'azienda stessa ma soprattutto le tasche dei cittadini che, come accaduto per l'acqua nel momento in cui si è passata al gestore unico, ha visto un rincaro in bolletta a discapito degli utenti.